È stata necessaria una lunga e accurata indagine che ha visto impegnati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria e amministrativa del comando di via Luciano a Pozzuoli per arrivare al nome dell'uomo che sversava abusivamente rifiuti speciali all'interno del parcheggio ex-soffer di via Fasano a Pozzuoli ad incastrare l'autore del reato i video registrati dalle telecamere installate proprio per contrastare il fenomeno degli ecoreati. Il fatto è accaduto il 17 ottobre scorso quando l'uomo giunto nell'area di sosta a bordo di un motocarro ha scaricato dal veicolo tre scatoloni pieni di buste contenenti spugna e lana di vetro. La sequenza è stata ripresa dalle telecamere installate dalla polizia municipale diretta dal comandante Silvia Mignone con l'obiettivo di individuare gli autori del frequente sversamento di rifiuti all'interno del parcheggio ex-soffer. L'indagato è stato deferito all'autorità giudiziaria per i reati di trasporto e abbandono di rifiuti speciali. Il motocarro è stato inoltre sequestrato ed è stato multato perché sprovvisto di assicurazione e revisione periodica del veicolo. Mi congratulo con gli agenti di polizia municipale e con il comandante Mignone per l'ottima azione compiuta ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. La nostra attenzione sull'intero territorio cittadino contro tutte le illegalità continuerà ad essere alta e saremo intransigenti in modo particolare nei confronti di coloro che commettono atti e reati contro l'ambiente. Il bene comune e gli sforzi fatti dall'amministrazione assieme a tutti i cittadini per avere una città finalmente pulita e vivibile vanno salvaguardati con tutte le energie possibili. Ha concluso il primo cittadino.